Non c'è quello che chiamano, non c'è gossip, non c'è... Non posso trovare una cosa che possa pensare a rubini, perché gli artisti non sono, non le fasi, ma se non lo so, io non so, io non posso, io non posso... Grazie a tutti gli altri argomenti, la pubblicità, il successo di queste cose, sono molto interessanti, ma non mi guardo, 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 non mi guardo. Grazie a tutti gli altri argomenti. Grazie a tutti gli altri argomenti. Grazie. 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 Grazie.